il mutuo non lo pago più, non so quello che mi succederà ma preferisco non pagare e vivere non è la scelta giusta, in quanto se non riesce a pagare il mutuo avrebbe senso cercare di vendere l'immobile ed estinguere il debito laddove dovesse valere meno del debito stesso, magari facendo un saldo estralcio, liberandosi dal debito se dovesse andare all'asta la casa molto probabilmente verrà venduto a un prezzo inferiore rispetto al debito in questo caso si troverebbe senza casa e anche con il debito per il quale la banca agirebbe nei suoi confronti ignorando lo stipendio e eventualmente altre proprietà